Continuo con i video, campagna 7 di Avon, offerte imperdibili in tutto il catalogo, nella campagna 7 si comincia la prima tappa del programma fideltà, acquista per 20 euro in questo catalogo di campagna 7, più la matita a 2,95 euro, 20 euro di prodotti nel catalogo, la seconda tappa acquista per 20 euro nel catalogo di campagna 8, più una crema Avon Care, la tappa campagna 9, acquista per 20 euro nel catalogo di campagna 9, più una crema per il corpo, a soli 2,95 euro, e quindi questo è il programma fideltà. Allora, io ho segnato le offerte più, diciamo, più imperdibili. Allora, acquista questi 4 prodotti a solo 9,90 euro. Allora, c'è il gel dolce, il mascara, l'Avon Care 3, il detergente tonico idratante, e lo spray a fragranza nuovo alla Natulas, alla fragola. Poi, gli sciampi per capelli della Duvance Technique, questo è l'inglese, ora. Poi, perle di terra solare, il pennello viso, qua va dove luce, poi qua ci sono altre terra solare compatta, qui ci sono le fragranze, sia per lui che per lei, poi, e questa è un'altra offerta, della, allora, della Pur Blanca. Tutti e 4 i prodotti a soli 15,95 euro. Allora, il set include, o di toilette spray, poi spray profumato per il corpo, crema profumata per il corpo, ed odorante a sfera, per un valore di 50,95 euro, invece a 15,95 euro. Poi, queste sono le, allora, lozioni dopo sole, crema teratante, spray solare per bambini, crema solare, tutti i prodotti per il mare. Poi, poi, allora, queste qua, sono le lozioni anticellulite della solution a 9,90 euro, a doppia azione a 9,90 euro, invece di 16 euro, ad azione intensiva a 10,90 euro, invece di 25, ad azione tripla a 10,90 euro, invece di 25, il 55% di sconto. Va bene, poi ci sono gli orologi, l'intimo, e qua ci sono le creme, i new, anti-età. Poi, queste sono tutte sempre le creme new. Allora, poi molinte labbra, i resetti, sempre il make-up new. E poi, questa è un'altra offerta, questo è uno smalto, sopra smalto iridescente, a soli 5,95 euro, e questo è lo smalto, viene così, sopra, tipo brillante, luccigoso. Poi, questo è il mascara nuovo, che è uscito, 8,90 euro, invece di 14,50 euro, e questi sono, la novità di, allora, sono di compigmento, effetto metallizzato, e ci sta, bio amatista, verde, questi colori qua, in poche parole. Tenuta fino a 8 ore, 5,95 euro, invece di 11,90 euro. Poi, l'ossetto, poi fondotinta, ombretti, poi le liner, mascara, matita contorno occhi, matita per sovracciglie, poi matite, rossetto, poi lipgloss, poi smalti, questo è, decoratore per unghie, la cura delle unghie, pennello per fondotinta, e fondotinta, poi sempre fondotinta, a partire da 7,95 euro, poi, blush illuminante, blush luminoso, blush in perne finitura perlata, il pennello per fard, a 7,95 euro, invece di 11,50 euro. Poi, sempre fondotinta, a solo 3,95 euro, poi, i grossetti, con queste colorazioni, poi, questa è un'altra offerta, diodorante e spray, a 3,95 euro, un attimo solo, un attimo solo,